Parliamo un po' di investimenti. In questo video ti voglio dire, secondo me, quando investire e in che cosa investire in base alla tua situazione. Perché ti dico questo? Perché vedo sul web un sacco di opportunità di investimento e persone che propongono investimenti da 500, 1000 euro, 50 euro, 2000 euro, ma ci rendiamo conto che questi non sono e non possono essere investimenti che ti danno una rendita vera. Perché? Perché se ci pensi, ma è logico, quanti soldi ti possono produrre 500, 1000 euro investiti? Cioè, anche se è un buon investimento, quanto ti possono dare? Ti possono dare 20, 30, 50 euro al mese, ma non di più, perché altrimenti sono investimenti ad altissimo rischio e metti veramente a rischio i tuoi soldi. Quindi, la mia opinione è, investire sì, ma quando? Quando ho cifre grosse. Non è un investimento parlare di 500, 1000 euro, non sono cifre che ti permettono di avere un ritorno sufficiente per poter dire cavolo, ho fatto un grande investimento. Gli investimenti seri si fanno quando hai tanti soldi da parte. Il mio consiglio, quindi, qual è? Investi, ma in una seconda fase. Il tuo obiettivo primario, l'obiettivo numero uno, deve essere generare ricchezza. Come la generi? Attraverso vendite, va bene? Devi generare vendite per qualsiasi business, per qualsiasi prodotto, per qualsiasi servizio. Tu decidi di commercializzare. Quindi, qual è il miglior investimento di tutti? Beh, se hai dei soldi da parte, 500, 1000 euro, quello che è, ma anche 50 euro, in che cosa investirli per iniziare questa spirale che poi ci porta a poter fare investimenti grossi? Sto parlando e a mio modo di vedere, è la mia opinione, ok? Però, secondo me, un investimento serio è dai 10.000 euro in su. Meno di 10.000, se non ce li hai, non puntare a fare grandi investimenti che ti diano un passivo perché hai dei guadagni ridicoli, troppo bassi. Da 10.000 euro in su puoi iniziare a fare qualcosa. Però, cavolo, prima devi avere quel budget da parte. Come ci arrivi? Beh, prendendo i soldi che hai risparmiato e investendoli, numero uno, su te stesso, quindi formazione, 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 e numero due ti dirò qual è il miglior investimento per chi sta partendo, ed è l'investimento in marketing, in vendite attraverso la promozione. A cosa mi riferisco? Beh, per me il miglior settore è il marketing online, perché ti dà un ritorno sull'investimento troppo elevato, nettamente più elevato di qualsiasi altro business. Vedo persone che mi propongono investimenti tutti i giorni, mi dicono, Matteo, metti 500 euro di qua, 1.000 euro di là. Io ce li posso anche mettere, però, se sai lavorare online e metti 500 euro in pubblicità, ne generi 1.000, capace che ne generi 1.000 in due giorni. Cioè, puoi raddoppiare i tuoi soldi costantemente in poco tempo. Perché? Perché quando investi in pubblicità, quando investi in marketing, la conseguenza logica di quell'investimento sono le vendite, quindi ti entrano soldi immediatamente, che puoi usare per investire ancora di più in pubblicità e far scattare appunto quell'effetto domino, quell'effetto a spirale di crescita che è praticamente esponenziale, che ti porta a fare sempre più soldi. Lì investi in pubblicità, fai più vendite, ti entrano più soldi, puoi potenziare ancora la pubblicità e lì continui a crescere. Quindi il primo investimento, ricordati, su di te e poi step numero 2, investi in pubblicità, inizi a generare vendite, a quel punto poi avrai budget per fare i grossi investimenti e avanti così. Grazie a tutti.